e eccoci su un nuovo episodio del Jamma Plays con NBA 2K16 di nuovo contro i Philadelphia 76ers perché questa cosa? perché i Philadelphia 76ers hanno talmente credito la presenza del Jamma Chicken in campo che hanno voluto fare un'altra partita detto ciò con la regia di Pepe Bonnici con lo sponsor Gatoran e con il protagonista Jamma Chicken andiamo a goderci questa nuova partita i New York Knicks possono e devono inanellare la terza vittoria di fila nel frattempo il Chicken figurati se entra titolare tutto è pronto l'arbitro sballonzola e via che si va perdiamo palla ovviamente allora il Chicken entra per marcare Isch Smith classe 77 il Chicken finora ha giocato benone deve continuare così inizia sul 5-12 per i Philadelphia 76ers la partita del Chicken abbiamo già 7 punti da recuperare Carmelo Nettoni prova a farsi spazio non c'è nessuno allora gira dietro per il Chicken che però non vede i movimenti 2 minuti e 31 del secondo quarto la gira sulla destra per Carmelo Nettoni allora sfonda sulla destra stava per darmela però ha sbagliato il passaggio e 76ers la sbagliano molto bene il Chicken guarda sulla sinistra ancora sulla destra per Mayo Maionese apertura il Chicken passa in mezzo a tutti e si fa servire va al tiro da 2 da fuori per poco molto male peccato Fidelelfia non deve andare a fare canestro e non lo fa recuperiamo palla molto bene il Chicken lo vede solo sulla destra allora lo serve il Valtiro e la trecambelone dentro 8-12 6 punti da recuperare scusate 4 punti da recuperare mi ero perso il punteggio mi sono perso anche l'uomo per vedere il punteggio va al tiro e ce lo fa l'apertura sulla sinistra per Williams allora Chicken prova ad aprire Chicken che si sta muovendo moving Chicken siamo bloccati là però allora il Chicken esce prova a dare una soluzione o Queen da sotto il canestro va a fare 12 no il 10-14 quest'oggi ho problemi col punteggio e non solo allora Smith attacca proviamo a fermarlo non è da fare allora lo teniamo là provano a farci tappo ma io lo seguo lo seguo ma lui sfonda il canestro 10-16 Chicken può ripartire lo fa lo vede sulla destra e lo seee no la perdo va bene dobbiamo giocare con calma ho capito io perde l'uomo lo recupera ahhh questi blocchi mi frega sempre va al tiro da 3 dentro 10-19 tragedia tragedia 26 secondi tragedia la gira sulla destra per Maio ancora il Chicken entra entra O'Quinn finge il tiro va al tiro subisce fallo e abbiamo due tiri in questo modo va O'Quinn il primo dentro pulito 11-19 il secondo dentro dopo un rimbalzo 12-19 più 7 per Philadelphia S-26 ahhh mi ha fatto fuori Chicken male molto male abbiamo 5 secondi la giriamo sulla destra per right tira Maio rimbalzo ma non la vi fa e va bene dobbiamo assolutamente giocare meglio nel secondo quarto figli in campo ma vi fanno male quindi schippiamo e il Chicken si accomoda in panca 12-21 schippiamo vediamo quando entriamo entriamo a bloccare McConnell classe 74 ed entriamo sul 21-27 dobbiamo far arrivare la palla a Anthony questa è la direttiva del mister palla quindi per Carmelone McConnell prova ma si trova davanti il Chicken ancora va al tiro peccato peccatissimo mamma mia che culo subito sul Cicke Carmelone il Cicke Porzingis Lopez e perdiamo palla quest'oggi perdiamo palla troppo facilmente e soprattutto non riusciamo a recuperarla e quando la perdono loro però maledizione quando la perdono loro noi non siamo svelti a recuperarla sulla destra per Porzingis il Chicken e io devo dare palla a Carmelo ma non lo vedi eccomi eccomi guarda dietro Carmelo fa tutto da solo va al tiro e facciamo il più due avanti così 23 29 2 minuti da giocare mi fa fuori va a farlo Chicken sulla destra per Aflalo Chicken palla per Carmelone come vuole il misterone va dentro Chicken si gira va al tiro palla che balloso la 8 ore sul ferro e poi 25 31 bravo Chicken dai ancora meno 6 ma possiamo farcela e il Chicken va anche recupero palla però poi la perde vi togliete dai dove è il Carmelone troppo distante per servilo subito allora mi allargo sulla sinistra e lo servo Anthony va al tiro ma sbaglio oggi Anthony non è in giornata ho capito vanno al tiro i Philadelphia 76ers e noi siamo sempre in ritardo sui rimbalzi ancora ancora hanno fatto tre tiri tre rimbalzi fuori e per tre volte l'abbiamo persa e abbiamo anche fatto fallo due tiri liberi per Philadelphia 76ers il primo dentro pulito il secondo dentro con il rimbalzo peccato 25 33 un minuto da giocare palla dentro per Carmelo come dice il mister che prova di darmela ma c'è fallo scusate c'è l'intercettro allora proviamo a bloccarlo in due non ci riusciamo va a far tutto da solo la scarica dietro va al tiro e Cicca recupera schiantandosi per terra la gioca su Maio va al tiro da due dentro 27 33 sempre meno sei non riusciamo ad accorciare io non riesco mai a fermarlo va al tiro da tre ah bene fuori dai che ci togliamo il meno sei Carmelone prova a sfondare da solo Carmelone il Cicca è è incastrato nel traffico sembra un'autostrada Carmelone Williams allora giro tutto sulla sua destra per Maio ancora Carmelone Anthony tira tira va al tiro dentro due 29 33 molto bene ma porco e ci replicano subito di nuovo meno sei cinque secondi da giocare allora giro tutto su Anthony che perde palla non capisco se è errore mio o suo e detto ciò il Cicca viene purgato e messo in panchina finisce così il secondo quarto sul 29 37 meno 8 e ci vediamo nel secondo tempo e eccoci nel all'inizio del terzo quarto fighe distese in campo e ovviamente ripartiamo dalla panchina schippiamo entriamo sul 31 44 ci stanno distruggendo ragazzi a 4 minuti e 30 secondi dalla fine del terzo quarto e ovviamente si di fermare il gioco di fare tutto con calma e il Cicca recupera sulla sinistra per Carmelo Anthony che va al tiro fuori recupera Anthony dentro 33 44 più 11 per Philadelphia San Sixers questo che mi fa fuori ogni volta e questo che va a fare il punto appro per Aflalo ancora il Cicca sulla lunetta il Cicca potrebbe meditare il tiro ma non lo fa non vedo Carmelo eccolo eccolo lì lo servo Porzingis al tiro dentro 2 35 46 ancora più 11 anzi meno 11 e fallo fino a lungo male edizione non riesco a toglierla è dura 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 mi fa fuori mi fa fuori di nuovo e va metterla dentro tiro libero McConnell dentro 35 49 più 14 Carmelone ma io servo Aflalo mi passo dietro Carmelone Williams il Cicca Anthony e la faccio ridare e allora vado al tiro che ovviamente non va dentro e ancora fallo in allungo fallo di istruzione continuiamo così 35 49 2 liberi qua il primo dentro pulito più 15 ormai anche il commentatore Giamma è demotivato il secondo è dentro ovviamente più 16 che batosta signore ma possiamo fare di meglio allora apro sulla sinistra per Williams Queen Wright gioca indietro per il Cicca ancora per Wright allora mi faccio vedere dentro fa tutto da solo e va dentro 37 51 provo a tenerlo mi fanno blocco allora mi supera e il Cicca recupera molto bene sul rimbalzo non vedo Carmelone e allora servo Williams Maionese ma come fai a darmela se sono tra due giocatori avversari ma va 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 37 53 questo è stato un errore del nostro compagno molto errore proprio banale è chiamato un time out 1 minuto e 50 parte il Cicca 37 53 non vedo Carmelone non c'è ancora allora io servo Okun che va al tiro e figurate se riusciamo a metterlo dentro va al tiro e figurate se non fa il 3 Chicken c'è movimento io lo vedo sulla sinistra Wright ancora il Chicken ancora Wright va tira se l'ha fatto e ha ragione a bullarsi siamo lenti e tra Calderon Williams a battere Chicken prova il super tiro da 3 e da dentro bravo Chicken ancora fallo in allungo terzo fallo per il Chicken sempre in allungo 2 tiro liberi per fila del Cassano di Sixers il primo dentro e suona la campanella del morto il secondo è dentro più 18 Chicken lo sgancia sulla destra per Wright si fa vedere Calderon va al tiro da 3 mai che il Chicken riesca ad andare a prendere un rimbalzo in attacco ok fa tutto da solo va al tiro e riusciamo a recuperare il Chicken bravo così tutto dentro per Wright che va sì non lo so allora il primo sbagliato il secondo stoppato il terzo forse quando riusciamo a farlo andrà dentro e il Chicken viene messo fuori vabbè entriamo nel quarto quarto a più 11 anzi meno 11 il Chicken si apre lo vede dentro lo serve O'Queen che ma cos'ha O'Queen quest'oggi 62-75 meno 13 ormai conto e basta lo vedo sulla sinistra lo serve subito Wright il Chicken lo gioco semplice su Bullar Maio e lo fa 65-75 4 secondi ormai la partita è persa e il Chicken giusto per non farsi mancare niente fa l'ultimo fallo in allungo prima della fine della partita voto finale comunque del Chicken vorrebbe essere a meno il primo è dentro il secondo è dentro New York Knicks e finisce qua New York Knicks 65 Philadelphia 76ers 77 giocato male tutta la squadra non solo il Chicken e che altro dire non meritavamo non meritavamo questa scontata siamo giocato male ce la siamo cercata e quindi interrompiamo a due la serie di vittorie conseguite bene signori dal Giamma e dal Caldo anche per questa volta è tutto come sempre se non siete iscritti al canale iscrivetevi tanti pollicioni in su tanti consigli tanti suggerimenti questi sono sempre ben accetti dal Giamma è tutto un abbraccione una strizzatina un qualcos'altro e al prossimo video la 2K